Sì, grazie Presidente. Guardi, molto brevemente, non volevo neanche intervenire, però in questo dibattito ho sentito un po' di ipocrisia perché c'è una parte politica che dice di avere una regola che a ben vedere è stata istituita proprio da quella maggioranza da allora, quindi diciamo un ripensamento sulla base. E' un'altra parte politica che accusa la destra romana di aver istituito i campi rom, almeno su quella che è l'esperienza personale, su quello che è il territorio del quindicesimo municipio e sulle esperienze che ha fatto questa amministrazione. Io ricordo che l'istituzione fu di una certa sinistra, quindi semplicemente per mettere un punto e per esprimere il voto contrario di questa maggioranza e per semplicemente rilevare un po' di ipocrisia anche nei confronti di un'amministrazione che nel bene o nel male è l'unica amministrazione da tanti anni che sul tema ci sta mettendo la faccia, sia per quanto riguarda l'assegnazione di case a cittadini italiani, sia per quanto riguarda la chiusura di indecenti campi di concentramento sul territorio di Roma Capitale. Grazie. Grazie.